Come ottenere la cittadinanza in Antigua e Barbuda? Nel 2013, il Senato di Antigua e Barbuda ha approvato la creazione del programma di cittadinanza per gli investimenti come meccanismo per lo sviluppo delle isole. Il passaporto di Antigua e Barbuda è molto gettonato, poiché grazie ad essi è possibile viaggiare, senza bisogno di visto, a più di 140 paesi. Come per gli altri programmi di cittadinanza per investimento nei Caraibi, quello di Antigua e Barbuda offre due opzioni per ottenere un passaporto. attraverso una donazione al Fondo Nazionale di Sviluppo del Governo o attraverso un investimento immobiliare.